Una sfida delicata, due buone squadre, due tifoserie innamorate, c'è davvero tutto in questa partita, buona serata da Piero Gepardo e Giosè Altafini. E' certamente ancora presto, ma dopo questa partita si potrà fare un primo bilancio, motivo per il quale i due allenatori vogliono assolutamente i tre punti. 1-0, cambiano i binari, si ribaltano le prospettive, è un gol importante in un momento cruciale della gara. Quando hai il palone tra i piedi ci si aspetta sempre qualcosa di speciale e anche oggi non ha deluso di attesa. Sentite il boato del pubblico, del resto c'è una grande atmosfera e c'è la felicità per il gol. Allora, a un'altra grande è un'altra cosa che si aspetta sempre il nostro tempo, e la valle a un'altra cosa che si aspetta sempre nella gara e poi lo sesspite. E' un'altra cosa che si aspetta sempre siava, è un'altra cosa cosa che si assinava. La prima volta di fredda, è un'altra cosa che si tratta sempre ma versione di teoria e la finestra. ce l'hanno fatta una grandissima vittoria la gioia dell'allenatore quella dei giocatori e ovviamente il pubblico che può festeggiare la squadra una partita non può essere mai deludente quando tutti danno il 100% sin dall'inizio questo è uno di quei casi bella partita grande serata è arrivato il momento dei saluti un ringraziamento a Giuseppe Taffini anche da parte di Pierlu Giubardo un ringraziamento a Giuseppe Taffini un ringraziamento a Giuseppe Taffini un ringraziamento a Giuseppe Taffini Grazie a tutti.